Mi sembra ideale per i mestieri della montagna, prego, eccellente. Grazie mille, quanto mai lieto di accogliervi anche quest'anno, non è mio. Ecco, è stato iniziato dalla famiglia Ceschi ancora nell'Ottocento, col gusto anche di piante proveniente da varie origini, quasi tutte anche il loro nome, sia scientifico, latino, sia anche, come detto, volgarmente. E anche poi la varietà, potete vedere appunto, quando parliamo di montagna, pensiamo le nostre, certo, soprattutto dopo che è stato dichiarato patrimonio universale e umanità, ma lo erano anche prima, senza che l'UNESCO intervenisse. E sono sempre belle, ecco. E poi ci sono testimonianze di piante invece che vengono da altri monti del mondo. Arricchito poi in questi giorni, certo, dai sei stand educativi, formativi e documentari. Quindi sono quanto mai lieto che si possa trovare qui, constatare la ricchezza di quel dono della natura che ci è stato dato e tramandato, che ci è affidato anche perché lo sappiamo, sì, usare, ma trasmettere possibilmente migliore, certo, non peggiore di quello che è. E allora buona visita e speriamo che tutti i giorni siano anche baciati e riscaldati da sola. Grazie, eccellenza.